Il gatto, il cane e l'anello magico. Ed ecco una fiaba popolare di origine italiana. Cosa avranno mai a che fare fra loro un gatto, un cane e un anello magico? Ascoltate e scopritelo. C'era una volta Tonio, un ragazzo povero che era rimasto orfano. Non avendo di che vivere, decise di andare per il mondo in cerca di fortuna. Arrivò in una città e mentre camminava per le strade in cerca di un lavoro, vide una vecchietta che faticava per un vicolo molto molto in salita e in più stava cercando di portare due grossi secchi pieni d'acqua. Allora Tonio si avvicinò alla vecchina e disse, signora datemi da portare l'acqua, non ce la fate mica con quel peso. Presi i secchi e accompagnò la vecchina alla sua casetta, che era proprio in punta in punta al vicolo. La vecchietta aprì la porta e lui posò i secchi in cucina. Vide che la casa era piena di gatti e di cani e tutti quanti erano intorno alla vecchietta per salutarla. Sei stato molto gentile, bel giovane. Cosa posso darti per ricompensa? Non ho molto, però qualche moneta. Ma no, signora, niente. Io l'ho fatto solo per fare un piacere. La vecchietta parve molto contenta di quella risposta. Aprì un cassetto della credenza e porse a Tonio un anello. Era un anellino piccolo, che sicuramente valeva poco, però lei glielo infilò al dito, mormorando delle parole magiche. Sappi che questo è un anello molto prezioso. Ogni volta che lo giri e gli comandi una cosa, quella cosa avverrà. Guarda solo di non perderlo. Sarebbe la tua rovina e per essere sicura che non lo perdi, chiederò a uno dei miei cani e a uno dei miei gatti che vengano con te. Sono bestie molto in gamba, vedrai, e di sicuro ti saranno utili. Ti piacciono gli animali? Oh, certo, signora, mi piacciono moltissimo. Ma sono povero, non so se avrò da dare loro da mangiare. Ah, non ti preoccupare. Vedrai che non avrai problemi. Tonio la ringraziò e se ne andò, ma a tutte le cose che aveva detto la vecchia signora non diede poi tanta importanza, perché alla fine lui non credeva alla magia. Però gli animali gli piacevano davvero molto ed era davvero contento di avere il gatto e il cane come compagnia. Camminò tutto il giorno, giocando con gli animali e facendoli correre e saltare. Verso sera entrarono in un bosco. Il paese successivo era ancora abbastanza lontano e allora Tonio si fermò a riposare sotto un albero. Il cane e il gatto gli si coricarono vicino. Dopo un po' però Tonio si rese conto che non riusciva a dormire, perché in tutta la giornata non aveva mangiato quasi niente. Allora si ricordò dell'anello che aveva al dito. Non che ci credesse, però provare non costava niente. Girò l'anello e disse, vorrei da mangiare e da bere. Non aveva ancora finito di dirlo che apparve davanti a lui una tavola imbandita con ogni specie di cibi e di bevande e anche con tre sedie. Lui si sedette e subito il cane e il gatto si sedettero sulle altre due. Tutti e tre si misero a mangiare con molto gusto. Beh, adesso all'anello doveva per forza crederci e anche alla magia. Finito di mangiare, si sdraiò per terra e si misero a pensare a quante belle cose poteva fare ormai. Non aveva che l'imbarazzo della scelta. Mucchi d'oro e d'argento, carrozze, cavalli, terre, castelli. E non riusciva a decidersi. Però era comunque un ragazzo molto buono e anche saggio, per cui pensò. Tante volte ho sentito dire che la gente perde la testa quando fa fortuna. Ma io la mia testa me la voglio conservare. Quindi per stasera basta. Sono sazio e ho due nuovi amici. Domani ci penserò. Si addormentò subito, con il cane vicino ai piedi e il gatto vicino alla testa. Quando si svegliò il sole era già alto. Era davvero una bella giornata, con l'aria fresca e il profumo dei fiori tutto intorno. Pensò che magari avrebbe potuto girare l'anello e comandare una carrozza, dei cavalli, dei servitori. Ma il bosco era così bello che preferì andare a piedi. Lui si accontentava di poco. Per colazione mangiò delle fragole buonissime che trovò nei cespugli e poi beve da una sorgente limpidissima. Intanto il gatto e il cane si erano procurati da mangiare da soli. E così lui camminò e camminò. E alla fine arrivò davanti a un palazzo bellissimo. Alla finestra di questo palazzo bellissimo era affacciata una ragazza anche lei bellissima. Lei quasi non lo guardò, visto che sembrava un vagabondo qualunque. Ma lui invece se ne innamorò subito. Si rese però conto che non poteva andare a parlarle. I nobili e i ricchi non parlano con i poveri straccioni. Si disse. Adesso sì che devo usare l'anello. Allora lo girò. Voglio che di fronte a questo palazzo ne sorga un altro ancora più bello, con tutto quello che ci vuole dentro, servitori, scuderie, eccetera eccetera. In un batter d'occhio il palazzo era lì, più grande e più bello dell'altro. E dentro c'era già lui, come se ci avesse sempre abitato, vestito con i più begli abiti che si potessero immaginare. Il cane era nella sua cuccia e il gatto si leccava le zampine vicino al camino. Il giovane allora andò alla finestra e vide che era proprio davanti alla finestra della bellissima ragazza. A questo punto la ragazza lo guardò, lo guardò molto bene e gli sorrise con un sorriso che avrebbe fatto innamorare chiunque, anche se lui non fosse stato ancora innamorato. Così, in breve tempo, Tonio la chiese in sposa i suoi genitori. Loro accettarono, lei ne fu molto contenta e si celebrò il matrimonio. Ma quella giovane era certo bellissima, però aveva un animo egoista e cattivo. E allora quando capì che tutto il potere era nell'anello, una notte quando Tonio dormiva, glielo tolse dal dito e lo rubò. Quando fu tornata a casa, girò l'anello e disse, comando che il palazzo del mio sposo sia messo sulla cima più alta e più scoscesa di quella montagna laggiù. E allora il palazzo scomparve come se non fosse mai esistito e apparve proprio lassù, su quella montagna, lassù in cima. Quando Tonio si svegliò al mattino, si guardò intorno, vide che non c'era nessuno tranne il cane e il gatto e andò ad aprire la finestra. Credeva di vedere il bosco e invece vide solo il cielo. Poi si sporse e si accorse che era proprio in cima a un dirupo. Non capiva cosa fosse successo. Pensò di girare l'anello e far tornare il palazzo dove era, ma a quel punto si accorse che non ce l'aveva più al dito e allora capì che si era fidato della persona sbagliata e che quella ragazza così bella in realtà era una ladra e una traditrice. Scoraggiato, si prese la testa fra le mani. Quando il cane e il gatto videro Tonio così triste, subito gli si avvicinarono. Boh, non disperarti! Io e il gatto ho una via per scendere tra le rocce e riusciremo pure a trovarla. Miau! Certo! E a quel punto vedrai che troveremo il modo di riportarti l'anello. Tonio non sapeva che quegli animali potessero parlare, ma non se ne stupì nemmeno tanto. Ah, cari amici, voi siete la mia unica speranza. Altrimenti preferisco buttarmi giù per le rocce piuttosto che morire di fame qui. Il cane e il gatto uscirono, si arrampicarono, saltarono per balze e per picchi e alla fine riuscirono a scendere dalla montagna. Per arrivare al palazzo della ragazza, però, c'era anche da attraversare un grande fiume. Allora il cane, che era più grosso, prese il gatto sulla schiena e nuotò dall'altra parte. Quando arrivarono al palazzo era notte e tutti dormivano. Il gatto disse al cane. Miau! Ora tu resta qui a fare il palo. Io vado su a vedere cosa si può fare. Silenzioso, come solo un gatto sa essere, arrivò fino alla stanza dove dormiva la traditrice. Però trovò la porta chiusa e non poteva entrare. Mentre pensava che magari avrebbe potuto fare il giro dalla finestra, vide un topo in fondo al corridoio. Con due salti la chiappò. Il topo si rese conto che non aveva nessuna speranza. Squit, lasciami andare, ti prego, ti prego. Ho tanti figli a cui badare, come faranno senza di me? Allora il gatto venne un'idea. Miau! Allora facciamo un accordo. Tu e i tuoi figli, rosicchiate la porta. Fate un buco in modo che io possa entrare. Se lo farete, parola di gatto, io non vi mangerò e ognuno andrà per la sua strada. Il topo allora chiamò i suoi figli e in breve riuscirono a fare un buco in modo che il gatto potesse passare. Allora il gatto, silenziosissimo, saltò sul letto della donna e le portò via l'anello senza che lei si svegliasse. Allora grandi salti corse giù per la scala. Bow, hai preso l'anello? Miau! Ma c'è? Tocca ce l'ho. Tutti e due saltarono fuori dal portone e corsero via. Tonio fu molto contento di vederli. Aveva paura che fosse capitato loro qualcosa. Bow, ecco l'anello. Miau! Sì, però non l'hai mica preso tu, l'ho preso io. Bow, ma se non c'ero io non saresti stato capace di attraversare il fiume. Miau! Sì, però... Allora Tonio sorrise e si mise a caressarli tutti e due insieme. Cari amici, non bisticciate. Avete compiuto questa impresa insieme e ognuno ha avuto la sua parte. E così i due animali tornarono amici come prima. A questo punto Tonio si mise l'anello al dito e lo girò. Comando che il mio palazzo stia laggiù, dove quello della mia sposa traditrice. E che la mia sposa traditrice e tutto il suo palazzo e tutti i suoi servitori? Vengano quassù dove sono io ora. E i due palazzi volarono per l'aria e cambiarono di posto. Il suo giù nel bel mezzo della pianura. Quello di lei su quella cima a guzza con lei dentro che gridava come un'aquila. Di lei non si seppe più niente. Allora il giovane mandò una grande carrozza a prendere la vecchina. Lei e tutti i suoi animali. Tutti quanti vennero ad abitare nel palazzo. E stetterò lì in pace e serenità per molto molto tempo. Ti è piaciuta questa storia? Seguici. Fiabe classiche e moderne. Favole e storie per bambini di tutti i tipi. A presto!